Tu e Marjorie vi siete incontrati per una ragione. Lei ti indica la terza e la quarta illuminazione. La profezia dice che smetteremo di recuperare le forze rubando energia agli altri, perché c'è un'altra fonte dentro di noi. Ma dobbiamo connetterci con questa fonte. Questo intendeva Will dicendo di aprirti. E se ti apri completamente, il modo in cui vedi il mondo cambia, te l'assicuro. Ma devi credere che questa esperienza possa avvenire. Ti devi aprire all'idea che ci sia qualcosa di più, che è proprio di fronte ai tuoi occhi. Hai visto anche tu? Andiamo, voglio mostrarti una cosa. Incredibile, questo posto è così vivo. Straordinario. Su, siediti. Facciamo un esperimento. Prova ad avvicinare le dita. Così? Sì, esatto. Adesso osserva lo spazio tra le tue dita. Quando l'immagine si sfoca, che cosa vedi? Guarda attentamente. Le dita ora sono fuori fuoco, giusto? Cosa vedi adesso? È come un filo di fumo, direi. È l'energia. Guardati attorno ora. Vedi quel filo dentro? Non si sforza di far succedere qualcosa. Lasciati andare anche tu. Osserva bene la pianta. La sua bellezza, i colori, il modo in cui spicca tra le altre. Ci siamo. Inspira profondamente. Vedrai tutta la vera bellezza. È fantastico. È davvero... Oh, aspetta, non c'è più. Vieni. Prova di nuovo. Ma è incredibile. Signora! Resta concentrato, John. Devi riuscirci. Signor John! Signor John! Signora, l'ospite del secondo cottage vuole parlare con lei. Dice che è molto importante. Allora,... Ciao! ... Grazie.